e quindi vediamo sette regole capitali per far capitolare un uomo e ti dicevo però abbonati anche al canale youtube massimo terramasco ci sono quattro livelli di abbonamento abbonamento live per partecipare live abbonamento base con lezioni mirata abbonamento top con lezioni mirata e videoregistrazioni seminari dal vivo abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica inoltre ho anche altri due canali youtube felicità benessere crescita personale con massimo terramasco su felicità benessere tra l'altro annunzio bobis gaudium magnum che ci sarà venerdì 24 settembre dalle 20 30 alle 23 30 il mio super mega seminario online sull'imprinting su come gestire l'imprinting per sbloccare i tuoi blocchi emotivi e sedurre e poi ti ricordo ancora che sull'altro mio canale cioè su questo canale se vuoi partecipare questo seminario basta che vai sulla home page tastina abbonati vicino a tastina iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare verso il computer seleziona seminario online non puoi perdertelo immancabile e sull'altro mio canale youtube crescita personale invece faccio delle live per abbonati quindi live domande risposte ora veniamo al tema però veniamo al tema sette regole capitali perse d'oro un uomo e farlo capitolare allora l'arte della seduzione femminile si basa su questi sette punti fondamentali il primo punto è anche se sembra un diciamo una come dire una cosa ovvia non lo è curare la tua femminilità ma curare la tua femminilità significa che devi essere femminile sempre non quelle che come dire normalmente si vestono con gli anfibi e poi diciamo quando devono vedere un uomo mettono il tacca spillo la gonna e il coso perché risulteresti come dire non è un qualcosa di assimilato la femminilità ha senso se è assimilata se è un concetto diciamo assimilato se è qualcosa che hai dentro se è qualcosa che ti porti dentro se è qualcosa che vivi bene altrimenti non ha nessun senso altrimenti non è femminilità altrimenti essere semplicemente come dire una donna che non ha diciamo che non è femminile se femminile significa differenziarsi rispetto a tutto ciò che è maschile quindi gonne preferite i pantaloni scarpe con tacco da preferire senza tacco essere femminile avere una gestualità camminata leggermente anche giante rispetto alla camminata la bersagliera insomma una gestualità più materna protettiva volgente rispetto a una gestualità dura e rigida maschile poi secondo punto fondamentale è l'eye contact devi guardare negli occhi un uomo tutte le tecniche di attrazione femminile si basano sugli occhi gli occhi come si dice sono uno specchio dell'anima però devi utilizzare al meglio questo strumento è uno strumento molto potente perché se tu guardi negli occhi un uomo soprattutto se lo guardi in questo punto beh genererai una seduzione molto molto forte molto marcata è molto importante questo devi imparare a farlo nel modo giusto perché se tu lo fai nel modo giusto otterrai sicuramente dei risultati stratosferici quindi utilizza guarda consapevolmente negli occhi un uomo il terzo punto anche questo fondamentale è ama te stessa non puoi diciamo altrimenti nessun altro lo farà come puoi pensare che qualcuno ti ami se tu non ami te stessa a prescindere dalle relazioni interpersonali amare a se stessi è fondamentale è veramente fondamentale tra l'altro come dire se amare se stessi vuol dire mandare a stendere tutti quelli che non ti danno quello che vorresti quindi avere la forza di mandarli a cagare quando non ti danno quello che vorresti fondamentale cara malgasona impara ad amare te stessa amare te stessa vuol dire non essere dipendente e questo infatti è il l'altro punto fondamentale diciamo perché è un altro punto veramente fondamentale non essere dipendenti non non essere bisognosa il quarto punto è basilare ed è la naturale conseguenza dell'amare se stessi essere indipendente essere una donna di successo attrae 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 c'è poco da fare diciamo queste fondamentale donna bisognosa donna noiosa donna lagnosa donna lamentosa donna noiosa cerca di diciamo sviluppare questa capacità in più un'altra un'altra al quinto la quinta regola base diciamo la quinta regola capitale è una gestione opportuna del linguaggio del corpo sappiamo che il linguaggio del corpo ha la prossemica costituita dal prossemica gestione degli spazi devi imparare ad avvicinarti allontanarti per dare degli stimoli motivi la paralinguistica il tono di voce impara a gestire il tono di voce impara ad avere una voce anche sensuale femminile seducente sorridi ma non ridere in modo sguagliato come quelle che fanno il risequino quelle lì non seducono non seducono nessuno quindi il linguaggio del corpo è molto importante da utilizzare anche qua deve essere all'unisono con la femminilità e questo è un altro punto molto importante molte donne diciamo hanno proprio questa un po questa incapacità no di flertare con successo è importante per mandare avanti una relazione anche saper gestire al meglio le emozioni perché attraverso il linguaggio del corpo riesce a dare emotività anche all'uomo che ti interessa e poi c'è l'altro punto che direi che è veramente il punto clou anche se non sembra il sesto punto che è la conversazione e la cultura devi saper conversare devi saper parlare fa parte deve avere cultura deve saper parlare di tanti argomenti una donna senza cultura non vale niente attirerà catramisti casi integrati cioè veramente una donna che sbaglia quando scrive non mette l'accento l'acca quando ci va l'acca non insomma sbagli congiuntivi fa errori grossolani e beh questo è veramente diciamo bisogna imparare ad avere cultura e quindi studia gli errori grammaticali non si possono vedere cioè se un uomo che non dico che però che che conosce la grammatica quando vedo una donna che scrive in modo sgrammaticato beh insomma voglio dire come perde 150 mila punti ragazzi è molto importante avere saper scrivere beh a meno che non sei non sei straniera quindi una lingua diversa quella italiana allora va bene c'è una giustificazione logico razionale ma ci sono donne italiane che non sanno scrivere in italiano sbagliano i congiuntivi sbagliano la grammatica proprio non hanno cultura non sanno parlare di nulla è veramente questo è una cosa che veramente fa decadere qualunque strategia di seduzione e l'ultimo punto saper gestire il contatto fisico senza darla diciamo subito ma il contatto fisico in senso lato ad esempio attraverso il massaggio per produrre adrenalina l'adrenalina è importante perché ti consente di ottenere ottenere dei risultati molto importanti da questo punto di vista se tu sai produrre adrenalina sai produrre diciamo che possiamo dire il giusto la combinazione scusa adrenalina ossitocina sbagliavo neurotrasmettitore attraverso il massaggio attraverso il contatto fisico gestito bene riesce a produrre ossitocina che è l'ormone dell'amore per cui lo identificherà come ti identificherà come una donna diciamo capace di sedurlo capace di far innamorare ecco quindi segui queste indicazioni mi raccomando iscriviti al mio canale youtube massimo terramasco e sul canale youtube felicità benessere se vuoi partecipare al mio seminario online che credo sia cosa buona e giusta per te abbonati a seminari online abbonati a seminari online abbonati a seminari online